È in carcere con l'accusa di aver ucciso il padre nel luglio del 2013, ma secondo i suoi legali, Francesca Cottani e Andrea Bazzani, deve essere trasferito presso la comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, perché soffre di gravi disagi personali. Adriano Casella è l'unico imputato per la morte del padre Francesco, trovato senza vita il 7 luglio di un anno fa nella sua abitazione di Sariano di Gropparello, nel Piacentino, mentre la soverella Isabella è accusata di occultamento di cadavere. Movente, stando ad alcune dichiarazioni dello stesso Casella, sarebbe stato il reperimento di denaro necessario, secondo l'imputato, a liberare una prostituta albanese dai suoi aguzzini. Ma questa mattina i due PM Antonio Colonna e Ornella Chicca, che hanno presieduto il processo in corte d'assise, hanno dato parere negativo alla richiesta dei legali dell'uomo di trasferimento in comunità. Ad incastrare ulteriormente Casella le testimonianze dei carabinieri del RIS, che hanno eseguito rilievi nell'abitazione di Sariano e sull'auto del figlio e che hanno rinvenuto tracce di sangue della vittima. Il sangue è stato rinvenuto nel bagagliaio dell'auto, in casa e su una bottiglia di vino, oltre che sulla pistola usata per l'omicidio. Le prossime udienze si terranno lunedì 27 e martedì 28 ottobre. In quest'ultima data verrà ascoltata anche la prostituta, accusata di aver indotto Adriano ad uccidere il padre.